Bene, siamo con Andrea Andorno, amministratore delegato dell'aeroporto di Torino, partiamo dai dati del traffico, un record ad agosto per le destinazioni nazionali. Sì, fortunatamente quest'estate è stata un'ottima estate per l'aeroporto per quanto riguarda i viaggi per le destinazioni nazionali, in primis la Sicilia, poi ha seguito la Sardegna così come tante altre destinazioni del sud. Evidentemente gli italiani quest'anno hanno deciso di viaggiare in Italia e i nostri numeri di agosto l'hanno dimostrato perché abbiamo battuto il record per le destinazioni nazionali del luglio del 2017. Molto bene quindi ad agosto, ora bisogna però puntare a fare altrettanto bene anche nei prossimi mesi. Assolutamente, c'è una sfida, una sfida autunnale importantissima per l'aeroporto di Torino che è la nuova base di Ryanair. Ryanair baserà due aeromobili la prima settimana, di novembre, di fatto da inizio novembre, tra l'altro un novembre importante per Torino perché ci sono anche la TP Finance e con questi due aeromobili basati Ryanair intende trasportare un milione di passeggeri in più su Torino nei primi 12 mesi. Abbiamo letto anche che ci saranno tante nuove tratte, ne ricordiamo soltanto alcune perché sono veramente tante. Sono tantissime, sono addirittura 17 destinazioni internazionali nuove per l'aeroporto da novembre che arriverà ad avere 53 destinazioni, che è anche questo un nuovo record per l'aeroporto. Di fatto avremo nuovi collegamenti per Dublino, Budapest, Tel Aviv, Kiev, Edimburgo, davvero tante destinazioni che Ryanair offrirà, alle quali vanno aggiunte anche altre destinazioni, ad esempio abbiamo un vettore delle Canarie, Binter Canarias, che offrirà un collegamento invernale per Gran Canaria che permette poi di raggiungere qualsiasi isola dell'arcipelago. Tante belle e nuove destinazioni in questo momento quindi di ripartenza da una pandemia ancora in atto che avete dovuto affrontare e che state affrontando con varie misure. Sì, pandemia diciamo che era un po' fuori dagli schemi che nessuno si aspettava e ci ha travolto, ci ha travolto nel 2020. L'aeroporto fortunatamente dopo un impegno molto forte dei miei collaboratori è riuscito ad aggiudicarsi il premio come miglior aeroporto europeo sotto i 5 milioni di passeggeri trasportati per come ha affrontato il Covid, quindi un aeroporto che si è da subito cercato di raggiungere l'eccellenza per quel che concerne la sicurezza. Oggi il fronte è diverso, si chiama Green Pass, ci sono controlli per tutti i passeggeri in partenza sia per le destinazioni internazionali che per quelle nazionali appunto affinché tutti i passeggeri abbiamo il Green Pass per poter partire serenamente dall'aeroporto. Parlando invece di ambiente, tema sempre più importante in questo periodo, un nuovo progetto di Torino Airport chiamato Torino Green Airport. Di che cosa si tratta? Ma è un qualcosa che per noi è una priorità assoluta. Quest'anno abbiamo voluto lanciare questo progetto che da un lato vuole raccontare tutto quello che è stato fatto perché l'aeroporto di Torino sta lavorando tantissimo dal 2009 sui temi di sostenibilità ambientale, sono stati ridotti i consumi di energia, proprio guardando da un lato al risparmio e dall'altro proprio a limitare quello che è l'impatto sull'ambiente. Oggi Torino Green Airport invece vuole anche raccontare quelli che sono i progetti su cui stiamo lavorando. Molto spesso viene anche in modo errato identificato il trasporto aereo come ad alto impatto inquinante quando non è assolutamente così l'incidenza del trasporto aereo, non siamo tra i primi che inquinano, ma vogliamo essere tra i primi invece che andranno ad eliminare qualsiasi tipo di impatto ambientale, tant'è che l'aeroporto di Torino ha sottoscritto un impegno di annullare qualsiasi tipo di emissione CO2 entro il 2050 e Torino Green Airport è un modo per raccontarlo e per anticipare quella data perché noi vogliamo arrivare a prima del 2050 ad annullare tutto l'impatto ambientale dell'aeroporto. Grazie per la visione!